Come annunciato a fine scorsa settimana sono partiti i lavori urgenti di messa in sicurezza della SP2 nel tratto di Canosa. La provincia Batta ha accelerato dopo il consiglio monotematico di due settimane fa, dando impulso ad una procedura partita lo scorso novembre con lo stanziamento di circa 400 mila euro per interventi urgenti di messa in sicurezza. Nelle scorse ore è arrivato l'affidamento e questa mattina sono partiti i primi interventi. Al momento priorità sulla colmatura delle buche pericolose formatesi sull'asfalto. Poi si procederà ad altri interventi, azioni decisamente tampone che non risolveranno la pericolosità della provinciale, ma certamente possono mitigare quantomeno la necessità di manovre improvvise per scansare buche anche molto profonde. Le attività sono cominciate dalla parte sud e procederanno sino a completare la parte nord dell'arteria stradale. Nel frattempo si attende anche l'avvio delle opere di messa in sicurezza del cantiere principale sulla strada provinciale 2 e che dovrebbe risolvere parte delle criticità della strada. Un'ordinanza della provincia Bat obbliga la ditta a diversi interventi, per cui sono stati stanziati anche 120 mila euro. Ma proprio più a nord, a poca distanza dal punto in cui c'è stato il grave incidente nella notte di Pasqua e Pasquetta che ha portato alla morte del 49enne Antonio Catalano, c'è stato un nuovo sinistro questa mattina con uno scontro tra una vettura e un trattore, feriti i conducenti dei veicoli soccorsi da equip sanitario del 118 sul posto per i rilievi la polizia locale di Canosa.